Oggi abbiamo solo una stima della frequenza della sclerosi multipla pediatrica. Pensiamo che si tratti dal 3 al 10% di tutte le forme di sclerosi multipla, ma non abbiamo dati certi e robusti sulla reale frequenza, incidenza e prevalenza di questa malattia. È in questo senso che è di estrema importanza l'iniziativa di FISM che ha voluto istituire un registro specifico per la sclerosi multipla pediatrica a cui parteciperanno tutti i principali centri neurologici e pediatrici proprio per arrivare a una valutazione esatta della frequenza, il che è importantissimo e per la ricerca e naturalmente per meglio comprendere quelli che sono i bisogni di questa popolazione e quindi pianificare i servizi nei confronti di questi bambini e adolescenti.